Canalizzazione doppia di Ronda e Crayon. Sedona. 18 ottobre 2018. A di Ronda. Eccoci di nuovo qui, carissimi esseri di luce. Pensavate di aver finito? Sorpresa. Abbiamo iniziato questa mattina con sorprese su sorprese, voi siete gli evoluzionari, come ha detto la nostra cara amica Peggy. Noi diciamo che siete, quelli che abbiamo atteso. Siete gli operatori, giocatori, della luce. Vi diamo tantissime informazioni per le vostre piccole capacità di operare, giocare, per quando andate fuori percorso. Ma come potete capire, questa frequenza vibrazionale continua a vivere dentro di voi. Questo collegamento vibrazionale che avete fatto oggi si espande oltre ciò che immaginavate possibile, mentre venite amplificati da queste pietre sacre, mentre venite amplificati dagli alberi, dalle rocce e dalle rane, per rilasciare la vostra paura. Quelli che ascolteranno questo messaggio in futuro non avranno nessuna idea di cosa stiamo parlando. Le rane possono essere la tua paura. È tempo di lasciare andare la tua paura. È tempo di guardare la tua paura. È tempo di collocarti nella tua presenza, di vedere cos'è questa paura e di come questa incarna tutto quanto dentro di te. E mentre guardi questa paura, non rimanere tutto dentro questo dramma, non rimanere tutto dentro questa storia. Tu lo sai ora, vero? È allora che crei la paura tu stesso, facendola sempre più grande. Sai, ogni volta che parli di questo racconto della paura, questo diventa sempre più grande. Piuttosto, smettila di raccontartelo. Puoi persino usare il braccialetto per ricordarti di smettere di raccontarti questa storia, perché questo racconto ti riporta tutta l'energia di questo vecchio dramma, trauma, paura, spazzatura. È soltanto roba vecchia. Vuoi il tuo corpo pieno di roba vecchia? Il tuo corpo è come dei fiocchi di neve, nostro veicolo Marilyn, con l'acqua congelata, secondo il nostro dottore Moto. Con questi esseri di luce presentati a questi esseri di luce qui, e lui, e Moto, nemmeno lo sapeva settant'anni fa. Ma vedete, è così che funziona. Questa è la ragione per cui dovete sempre dire sì. Fatevi vivi. Fatevi vivi abbiate il desiderio di attraversare, andare oltre. Fatevi vivi abbiate il desiderio, anche se pensate che questo sia possibilmente al di là del vostro percorso, anche se credete che questo possa non essere parte della vostra energia. Chiediti innanzitutto, stai opponendo resistenza? E se stai opponendo resistenza, perché? A cosa stai facendo resistenza, al tuo successo? A cosa stai facendo resistenza, al tuo futuro? A cosa stai facendo resistenza, al tuo relazionarti? A cosa stai facendo resistenza, al tuo amore? A cosa stai facendo resistenza, al tuo corpo perfetto? A cosa stai facendo resistenza, al tuo cervello perfetto? Smettila. Sai, lasciare andare è molto semplice. Perché questa resistenza ti è tenuto dove sei stato. Noi crediamo che ti stai spostando in un territorio nuovo per la tua anima. Non c'è nessun paradigma per dove sei ora. Nessun paradigma. Questo significa nessuna rete di protezione. Io. Andiamo di nuovo sul trapezio. Tanto non hai più bisogno della rete di protezione, perché siete magnifici essere di luce, siete un magnifico campo di forza, siete dei connettori energetici che si stanno muovendo attraverso questo universo con amore, luce, risate e gioia, e con un po' di contrasto. Sai, questo contrasto sembra sempre arrivare al momento giusto, così che tu possa avere la più grande di tutte le lezioni, così che tu sappia che non devi farlo ancora. Ah, bene, non devo bandire gli errori in questa vita. Celebralo. Bene, devo evolvere. Qualcuno ci ha mostrato che si evolve nelle parole amore, amore, amore se le scrivete al contrario, in inglese love, al contrario si scrive vol, che è la radice di evoluzione. Non lo conosciamo e non l'abbiamo scritto, ma è quello che stiamo cercando. Non è interessante? Sì, questo è ciò che stai facendo. Stai andando ben oltre dove sei mai stato su questo pianeta o qualsiasi altro pianeta in questo momento, questo weekend. Hai firmato un accordo per questo incontro con canalizzazione. Tu sapevi per cosa hai messo la firma. Sapevi che eri qui per accendere tutto quello che lavora a tuo favore per la positività nella tua esistenza. Questo quindi irradia oltre te, per la tua famiglia, per i tuoi amici, per quelli che non sono la tua famiglia, per quelli che non sono tuoi amici. Per i tuoi vicini con cui magari non hai mai parlato. Andrai a casa e dirai. Ciao vicino. Potrebbe guardarti in modo strano in un primo momento, ma questo perché la tua luce è così luminosa da aver bisogno degli occhiali da sole. Vedete, questa informazione con cui tornate a casa, ce l'hanno solo duecento di voi, fate un respiro profondo, eppure, quando fate i conti, e ognuno di voi conosce almeno duecento persone, senza considerare le duecento persone che sono nel vostro contesto e che non conoscete, questi sono quindi oltre quattrocento persone ogni giorno con cui dovete entrare in contatto. E quando moltiplicate e moltiplicate il suo doppio, questo doppio non ci mettete molto ad avere otto miliardi di persone su questo pianeta. Devono essere tutti attivati, vero? Sapete che non c'è più noi a loro. Non ci sono più due diverse categorie di persone. Quelli che sono illuminati e quelli che non lo sono. Quelli che sono risvegliati e quelli che non lo sono. Devono risvegliarsi tutti, persino tua cognata, perché anche lei sta pensando le stesse cose su di te. Vedete miei cari, il vostro essere amorevoli, la vostra espansione del vostro cuore, lo sentite in questo momento, vero? Sentite questa energia, che il vostro cuore è più grande di questa sala? Immaginate come sarà quando tornerete al vostro hotel e riempirà il vostro hotel. E poi si continua questa sera, e domani con Jet, e il giorno dopo con Peggy, Lee e Crayon. Wow! Come può non cambiare il mondo? Come può non andare meglio di così? Scopriamolo. Vedete, questa energia di collegamento, e questo, ciò che portate. Vi verrà detto più e più volte quanto siete magnifici, per cui rendeteve ne conto già ora. Lasciateci portare nuove informazioni, ok? Abbi fiducia in te stesso. Abbi fiducia nel tuo amore, nella tua luce. Abbi fiducia nella tua intuizione. Abbi fiducia nella tua visione quantica, nella tua ricettività. E sei l'amore che sei. Namaste. Salve miei cari. Io sono Crayon, del Servizio Magnetico. Per tutta la giornata avete ascoltato la canalizzazione e l'insegnamento, per i quali siete più di quanto credete di essere. Perché quello che ha detto Abbi ronda e che ha detto moltissime volte è che siete più di quello che pensavate. Siete arrivati al momento giusto per essere più di ciò che pensavate. Mi rivolgo di nuovo a ciò che sta accadendo in sala. Nella coscienza della consapevolezza di ciò che è qui, ci sono quelli che sono preparati per informazioni avanzate. Queste informazioni avanzate riguardano soprattutto quello che vi viene dato nelle canalizzazioni di questi giorni. E per informazioni avanzate intendiamo anche una comprensione avanzata. Parlerò di qualcosa, ancora una volta, che è in parte scientifico. E la ragione è questa. Se dite che state andando a un incontro di canalizzazioni qui a Sedona, se non sono del tutto consapevoli di ciò che questo possa significare o se non hanno una nozione preconcetta di ciò che pensano possa significare, ti mettono un'etichetta addosso e dicono. Passa una buona giornata. E alzano gli occhi al cielo. E quando ritornate vi chiederanno davvero poco, perché potreste parlargli delle fate sui muri e delle rane che ti hanno parlato, e di tutto il resto, specialmente a Sedona, questo è molto frequente. Per cui, ciò che sto dicendo è quanto segue. Ci sono molti che non si aspettano molto dall'incontro, davvero. In particolare quelli che non comprendono quello che voi comprendete. Deve essere pratico. Lo dirò più e più volte. Questo è reale. Deve essere pratico. Per le persone non può essere qualcosa che è nell'etere, di cui disporre e da comprendere, quando sentono parlare delle fate o di tutte le cose di cui venite accusati che non hanno una realtà. In ogni caso, ci sono quelli che stanno sentendo parlare delle fate e che comprendono molto bene, questa è un'altra storia. Cos'è reale e cosa non è reale? Questo è il tema pratico in questo momento. Cos'è reale e cosa non è reale? Quello che vedete nella vostra vita giorno dopo giorno, i problemi che vi siete portati qui, e le questioni risolte che avete mentre siete seduti sono molto reali. Ma c'è anche una realtà in qualcosa di cui potreste non essere consapevoli. È il campo. In questi anni sono state fatte moltissime ricerche su un qualcosa chiamato campo. Vi abbiamo detto questo. Il campo è in pratica una sub-realtà che contiene i potenziali di tutto ciò che esiste, i potenziali del futuro. Ora, siamo cauti. Voglio che comprendiate la realtà, la praticità e persino la scienza di ciò che sto per dirvi. Perché quelli presenti in questa sala possono comprenderlo, applicarlo, lavorarci, mentre altri si sentiranno perplessi, persino in merito al concetto stesso. Per cui, inizio così. Anni fa vi ho dato l'informazione che stavate per avere un nuovo papa, e tredici mesi dopo avete avuto un nuovo papa. Quando il giovane leader nordcoreano ha perso suo padre nell'arco di un mese, vi ho iniziato a dare informazioni che ho ripetuto cinque volte in un certo numero di anni che dicevano che c'era un potenziale per il quale questo leader avrebbe ridotto il suo arsenale nucleare e unito la penisola coreana. È stata fantasia e follia, fino al momento in cui ha continuato a terrorizzare. E poi, a giugno di quest'anno è cambiato tutto con una stretta di mano. Deve avervi dato i brividi sapere cos'è accaduto lì. E cos'è accaduto? Beh, Kryon, ci hai dato il futuro, ci hai dato delle previsioni. Non l'ho fatto. Vi ho semplicemente dato ciò che era nel campo. I potenziali giacciono lì, alcuni non compiuti e altri pronti per essere compiuti, in base all'azione dell'umano che è coinvolto. Avete ascoltato? Sono lì. Sono reali i potenziali? E la risposta è, come definite la realtà? La definite come ciò che vi è accaduto e con cui avete dovuto avere a che fare o la definite come ciò che progettate, che accadrà nel campo, potenziali che avete attivato, e che quindi state controllando proprio la vostra vita? Avete ascoltato? Quelli che misurano il campo, questi scienziati che sono coinvolti nell'osservare l'effetto della coscienza di massa, hanno tutti visto la stessa cosa che lascia perplessi, ovvero che quando accadono certi eventi sul pianeta e si inizia a innalzare la coscienza in modalità compassionevole e tutti gli indicatori iniziano a misurare ciò che stanno misurando, e si hanno notato qualcosa davvero spettacolare. Alcuni momenti prima dell'attività che si presupponeva galvanizzare l'umanità. Come l'11 settembre. Alcuni attimi prima i diagrammi hanno reagito, alcuni attimi prima dell'evento. Ora, alcuni la chiamerebbero preveggenza. Io la chiamo attivare il campo. Ci sono sempre stati i potenziali di quelle cose che sono state misurate. Per cui, poco prima dell'evento reale, hanno trasmesso proprio la loro presenza. Queste sono informazioni eleganti e avanzate che voglio che comprendiate. Qual è la realtà? Vi ho dato delle previsioni che non sono ancora diventate reali, e voi aspettate e continuate ad aspettare il crollo delle grandi case farmaceutiche. Vi ho dato quest'informazione anni fa. È inevitabile sta arrivando, ma questo deve essere attivato. E quelli che lo attiveranno in pratica sono stati fermati un po' di volte. Ne siete sorpresi? Arriverà un tempo, miei cari, in cui non verranno fermati. Questo è nel campo, e questa è la ragione per cui posso dare questa previsione, secondo cui queste cose cambieranno. La loro integrità o la loro mancanza verrà mostrata e misurata. E ci sarà una reazione, una grande reazione. Ve ne abbiamo data un'altra. Vi abbiamo detto che c'è qualcosa nel campo che sta accadendo proprio adesso, cose che nemmeno sareste a conoscenza, cose che stanno accadendo al buio e che stanno venendo alla luce. Vi ho detto che ci sarà la rivelazione della schiavitù dei bambini su questo pianeta, che esploderà fuori dal suo orribile guscio in cui è stata nascosta attraverso un'incredibile somma di denaro che viene versata in questa industria dell'oscurità e che sarà rivelata quando la luce verrà mostrata. Ci saranno quelli che vedranno e che diranno. Questo mi sorprende. La terra è spacciata. Guarda com'è tutto così orribile, non comprendendo che è sempre stato così e che ora sta venendo alla luce, in questi tempi. Questo è nel campo. Ma ce ne sono alcuni che sono nel campo e che non saranno attivati, e la ragione è che quelli che dovrebbero attivarli non hanno fatto niente, oppure sono stati fermati. Cosa c'è nel campo per te? E qui viene il bello. Qual è la tua definizione di reale? Sei venuto con un problema, vuoi che ti venga dato qualcosa attraverso la conoscenza o una, ah. O magari una nuova idea che aiuterà a cambiare quei problemi che sono stagnanti dentro di te. Sei venuto col desiderio di andartene con informazioni su cui puoi lavorare, perché ciò è pratico. E allora lavora su questo. Vi ho appena dato la scienza della previsione. Non è chiaroveggenza, è parte della realtà che giace nel campo. Ci sono molti esperimenti, molto simili agli esperimenti sull'intuizione e alle cose su cui vi siete esercitati oggi. Esperimenti dove mostrano una carta oppure dove non la mostrano, e misurano quelli che potrebbero identificare quale sia la carta successiva. E molto spesso quello che chiamano fattore P che è nelle statistiche. È tutto in disordine perché, che le persone indovinino oppure no, identificano e identificano ancora qual è la carta successiva. E la ragione è nel campo. Vedete, in semplici esperimenti, in cui vengono mostrate delle carte e chiedono. Cosa avviene dopo? Anche se questa carta è all'oscuro, anche se non possono vederla. Comprendete che il campo, la possibilità che deve essere lì è proprio lì, semplicemente non è ancora visibile, ma c'è. Per cui, perché non lo andate a prendere e non dite? Questo è ciò che sarà. Comprendete ciò che sto dicendo? Loro lo fanno. La scienza sta iniziando a portare le prove del campo. E questo vi dice quanto segue, proprio ora. Ci sono potenziali per la vostra guarigione, per le situazioni che vorreste liberare per far chiarezza. Ci sono i potenziali nel campo? Io vi dico che ci sono. Ci sono, e potrebbero semplicemente rimanere lì, incompiuti. Cosa posso fare, Crayon, per attivare i potenziali che possono essere nel campo? Vi dirò questo. Rivendicateli. Rivendicateli come fossero reali. Questo mio potenziale che è stato inattesa e che ho atteso a lungo, eccolo qui. Potete dire, io so cosa c'è lì fuori, posso percepirlo. E avete ragione. Molti di voi, in questa sala, con una coscienza che è qui seduta per una canalizzazione come questa, hanno percepito queste cose. Ecco perché siete qui. Più che soltanto nelle fessure, come ho detto questa mattina, è nel campo, una realtà che è praticamente vostra. Che non è ancora qui, ma che giace nel campo perché è un potenziale. Ci sono quelli che dicono, sono bloccato, ho provato più e più volte, vi rendete conto che nel vostro intento, nel vostro provare, essere e fare avete creato un potenziale nel campo proprio per le cose che avete chiesto. E la tempistica? Quando è tempo? Perché non ora? E questo è quanto voglio dirvi. La preveggenza è semplicemente l'identificazione di ciò che già c'è. Che già c'è. Semplicemente non è ancora il suo tempo per ciò, ma esiste, come la guarigione per cui siete venuti, come liberarsi dai problemi di cui vorreste sbarazzarvi, come gli A, a che vi piacerebbero, come la direzione verso cui andare che vorreste conoscere. Conosco chi è qui. C'è già. La chiave è l'intuizione, l'avete sentito dire oggi. L'intuizione è la chiave, e l'intuizione esiste attraverso il Sé superiore, viene data da Dio, e quel che vedete allo specchio, è la sorpresa, è vostra. E mentre iniziate ad esercitarla, iniziate a vedere la realtà che è nel campo. E questa quindi inizia a spingere verso voi. Attraverso l'intuizione e l'intento io reclamo queste cose perché esistono. Non perché voglio un qualche miracolo che viene dal cielo, ma perché sono lì. Le avete create voi. Questo è il campo. Questo, miei cari, a basi scientifiche, come si suol dire. Questo è pratico. Questo è quello che vi portate da questo tipo di incontri e su cui iniziate a lavorare. Iniziate a fare domande. C'è davvero? Può essere che Crayon abbia ragione, che ciò su cui ho lavorato così a lungo è in pratica già stato costruito e tutto ciò che ho da fare con la mia intuizione è iniziare a reclamarlo e iniziare a lavorarci? La risposta è sì. La risposta è sì. Diventate voi stessi dei percettivi. Iniziate a guardare queste cose e potete addirittura prevederle voi stessi e dirle con la vostra bocca. Direte. Questo accadrà, per me. E questo gli dà credibilità, anche per il vostro corpo. Comprendete questo processo? Eccolo qui. Voi reclamate ciò che è nel campo per voi che è arrivato. Il corpo quindi lo ascolta, lo sente, ci lavora, e questo inizia a essere reale per voi. Questa è realtà programmata. Quello che vi ho dato in questi brevi momenti sono informazioni avanzate. Sono informazioni che richiedono che ci pensiate per un po', perché sono al di fuori della scatola del passato, del presente e del futuro. Vi portano al di sopra di ciò che vi potevate aspettare e stringono la mano con tutto ciò che avete appreso oggi, tutto quanto. E stringe la mano anche a tutto quello che arriverà nei giorni a seguire. Tu sei magnifico. Sei nato magnifico. Ti guardi allo specchio e vedi Dio dentro di te. C'è così tanto che è stato attivato per anime antiche come te in questa nuova energia. Ma hai la libera scelta, e hai l'intento, e hai l'intuizione, tutti strumenti che stai iniziando ad affinare e su cui stai iniziando a sapere di più. Lasciate questo luogo diversi da come siete arrivati, e venite domani pronti per nuove informazioni, per una canalizzazione che è diversa da quella che vi aspettereste, per delle energie a cui potreste aprirvi e per cui potreste dire. Non so cosa c'è qui, procediamo. Perché tutte queste cose vi miglioreranno, miei cari. Che questo abbia inizio. E così è.